Buonasera a tutti e benvenuti alla night session su Bitcoin. Che cosa segnalavo al gruppo premium dopo che vi avevo detto di fare attenzione all'eventuale violazione di questo massimo oppure no? Segnalavo che stavamo aspettando di vedere se il sesto T-3 avrebbe chiuso sopra o sotto la media mobile, quella che vi dicevo che regge i prezzi di Bitcoin dal 19 di aprile e però mi aspettavo una possibilità di rimbalzo a livello di volumi con una discesa in quest'area che ci avrebbe dato un'allerta per vedere appunto se andare a fare un long oppure no. Però nonostante una candela verde eccetera il long non è arrivato. Quando peraltro siamo arrivati qua, la gente ha iniziato a dire beh dai adesso media mobile a 200 periodi, caspita, che facciamo? Proviamo un long. Partita questa candela verde ho segnalato ma guardate che a me continua a non dare long il tecnica 2. È vero però che a volte arriva leggermente in ritardo, è vero che qui siamo già arrivati a 38 barre. Se perdiamo il long mi dispiacerà però comunque non è che possiamo prendere tutte le operazioni. Che cosa è successo? Stiamo continuando a scendere e siamo arrivati a 43 barre su massimo 44. Aspettate, scusate. Siamo arrivati su questo livello a 43 barre su massimo 44. E quindi qui è possibile che voglia partire un nuovo T-3 ma di nuovo il tecnica 2 è talmente in questo momento flebile che grazie al fatto che abbiamo dovuto aspettare questo livello per vedere se ci sarebbe stato un ribalzo e poi non lo dava ci siamo evitati di perdere questi soldi. Quando è scattata questa candela alle 18.30 ho detto caspita abbiamo iniziato a perdercene un pezzo e beh dai comunque siamo arrivati a 16 barre di inverso a un certo punto magari e invece no. Grazie proprio al tecnica 2 non siamo entrati, non ci siamo fatti male. E adesso però possiamo constatare che abbiamo avuto una bella discesa. Non abbiamo soltanto trovato la condizione necessaria e sufficiente per chiudere il settimanale. Attenzione, è sufficiente e non definitiva. Sufficiente perché siamo alla sesta barra, al sesto T-3. Però adesso noi possiamo fare una cosa che gli altri non possono fare. Ovvero andare a vedere che cosa sta partendo da questo massimo. Perché se vi ricordate bene, e qui c'era già la condizione necessaria e sufficiente per la chiusura non soltanto di un settimanale inverso, ma di un B settimanale inverso. E lo sappiamo come fanno ormai, giusto? Se seguite il canale da tempo sapete che spesso fanno finta di partenza di un nuovo T inverso cosa che non era assegnata come T inverso, ma era assegnata come ottavo T-3 inverso, vi ricordate. Poi chiudono molto vicino ai massimi e abbiamo chiuso veramente vicino. Poi scendono un pochino e poi rimane appunto ottavo e nono T-3. Questa volta invece, persa la media mobile, siamo scivolati fino a sotto. Per questo motivo, attenzione, perché questo è il terzo settimanale inverso, che potrebbe essere il nuovo T più 1 inverso, persino B settimanale inverso. E un B settimanale inverso per iniziare non solo deve scendere, e qui la discesa l'abbiamo fatta, ma deve fare anche un'altra cosa, rimanere almeno per 3 T-3 sotto questo massimo, sapete che è più basso ovviamente di questa spike che non esiste. E se vogliamo rimanerci sotto, sotto questo massimo per almeno un terzo T-3, che cosa faremo? Adesso proveremo a cercare un massimo, e dovremo iniziare a capire che cosa non voglio di fare. Perché qui, trovato il massimo, c'è una bella resistenza qua sopra, e arrivati alla ventiquattresima barra di inverso, ventiquattresima barra del ciclo giornaliero, noi siamo a 22, quindi dalla chiusura della barra stessa, ovvero dalla partenza della venticinquesima barra all'1.15, noi, fatti due barre di rialzo, se non troviamo volumi, se non troviamo forze, se ritorniamo qui sotto, dove mettiamo un bello allarme, rischiamo di continuare a scendere. E di fare la fine che purtroppo ha iniziato a fare Ethereum. Vi ricordate che ve ne parlavo, andate a ripescare l'analisi precedente. Quindi mettiamo un allarme sotto questo minimo a 63.666, e con questo iniziamo già a cautelarci da un eventuale rischio che questo non sia stato l'ultimo T-3, che peraltro non è che abbia trovato a 24 barre la possibilità di chiudere e far partire un altro T-3. Da qui, 1, 2, 3, 4 barre, no, neanche 4 barre sotto, cioè ha proprio chiuso qua. Ha chiuso qua. Per questo motivo, però, attenzione a cogliere il rimbalzo, perché rischia di essere poca roba. Se troviamo appunto un massimo, bisogna vedere, uno, se supererà questa media mobile, e due, come già detto, arrivati alla ventiquattresima barra, e se poi rimarremo per 5 barre qui sotto e purtroppo non avremo un rimbalzo degno di nota, il rischio è di tornare a scendere. Ok? È vero, però, anche che, e quindi ragioniamo bene con la nostra testa, è vero anche che, però, se volesse partire da qui un nuovo settimanale inverso, nessuno glielo vieta. Perché? A parte la condizione che abbiamo, abbiamo anche che il secondo t-3 è vero, verissimo, che può chiudere alla ventiquattresima barra, e quindi, attenzione all'1 e un quarto a vedere che cosa succede, ma può anche continuare a salire e a riprendere quota tranquillamente fino alla quarantaquattresima barra, che scadrà domani alle ore 16 e 15. E se si riesce a superare questo livello, questa media mobile, qua, ok, diventa interessante il discorso perché c'è spazio per ritornare verso l'alto. Però, fatemi una domanda. Fatemi questa domanda. Jacopo, è scattato il tecnica 2 long, oppure anche qui non è scattato e abbiamo fatto una finta con questa candela, una finta con quest'altra candela e poi discesa? Perché la risposta, giustamente, la darò nel gruppo premium. Direi che è tutto, vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida serata di controllo per vedere dopo la quinta candela dove saremo e alla ventiquattresima di inverso che cosa succederà. Arrivederci. Arrivederci.